Il Comune di Sulmona tende a riportare dal mese di settembre gli studenti del Delino Morandi in città in una sede alternativa in attesa che si sblocchi la situazione per i lavori di adiocamento sismico nello storico edificio di Via d'Andrea. E quanto è emerso fra le altre cose nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo San Francesco fra una delegazione del Comitato Delino Morandi, il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, l'Assessore Comunale con Delega dei Mori Pubblici Mario Senibaldi e la Consigliera Roberta Salvati. Si stanno vagliando tutte le ipotesi per consentire il rientro degli studenti a Sulmona per settembre ma è ancora presto per sbilanciarsi dal momento che devono essere eseguite tutte le verifiche del caso, ha detto il Presidente della Sisecilica. L'impegno di reperire serie alternative ed ospitare gli studenti fu preso proprio dal Comune nel primo tavolo sul Delino Morandi dell'Era Casini che risale al 12 luglio 2016. Nel corso dell'incontro è emersa anche la necessità di richiedere alla provincia dell'Aquila il testo della Convenzione Si Grada con i Proveritorato delle Opere Pubbliche diventato soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori al plesso scolastico dei ragionieri e geometri. L'intenzione degli amministratori, in piena sintonia con il Comitato, è quella di richiedere un incontro con i Proveritorato per percorrere la strada dello scorrimento della gradatoria che accorcerebbe di molto i tempi del rientro degli studenti a Sulmona. Il ponte fra Comune e Proveritorato si chiama, in questo caso, Regione Abruzzo.